Emozioni e grande partecipazione di fedeli ieri pomeriggio in piazza Agostino Magliani a Laurino per i festeggiamenti dei 25 anni di sacerdozio di Don Loreto Ferrarese. Non solo la comunità della parrocchia di Santa Maria Maggiore, ma anche quelle di altri comuni della Valle del Calore hanno stretto in un ideale d'amorevole abbraccio il pastore che per l'occasione, insieme ad altri parroci del territorio, ha concelebrato la Santa Messa, a cui hanno partecipato numerose autorità militari e civili, con i sindaci di Laurino, Romano Gregorio, Piaggine, Renato Pizzolante e Valle dell'Angelo, Salvatori Annuzzi. Tutta la comunità, non solo di Laurino, ma anche i paesi dove io opero, Campora e Valle dell'Angelo. Anche la comunità qui vicino, Piaggine e Sacco, quindi Villa Vittorio. Quindi diciamo che abbraccio un po' questo territorio di questi cinque comuni che oggi coronano insieme con me questo momento di festa. E' sempre emozionante rivivere quei momenti iniziali del 10 aprile 1999. Quindi le parole tante volte non sono sufficienti per colmare questo desiderio, questo entusiasmo. e spero che possa piano piano cercare di andare avanti con quello che il Signore mi mette davanti e farlo con devozione, con amore e con disponibilità. 25 anni, un percorso importante. Ci sono dei momenti che lei ricorda con particolare affetto? Sì, vabbè, ci sono dei momenti in cui ho avuto delle soddisfazioni, ma anche dei momenti in cui delle delusioni, possiamo dire, ecco, perché non nasconderle. Le delusioni tante volte fanno parte proprio della vita e allora quelle delusioni ci aiutano a camminare, a superare tante difficoltà. Io di fatti accennerò poi durante l'Omelia che io sono come i discepoli di Emmaus, un po' sconfortati, delusi e abbattuti perché Cristo doveva risorgerlo e non è risorto. Anche a me è capitato quel momento là, durante questo cammino dei 25 anni, dal seminario fino ad oggi che mi ha portato a celebrare questo evento straordinario. Infine un suo auspicio, un suo augurio per le comunità di cui è pastore. L'auspicio e l'augurio è quello che possono essere sempre andare avanti, cercare di stare vicino a loro e fare in modo che questo cammino sia un cammino unitario, un cammino nel quale ognuno di noi trova quella dimensione, quella realtà e che tutti quanti possano trovare un proprio posto all'interno di questa comunità. La comunità tutta è in festa perché oggi festeggiamo i 25 anni dell'ordinazione sacerdotale di Don Loreto che è stato qui da noi ininterrottamente per tutti questi 25 anni e credo che ha svolto davvero un'opera importante non solo per l'aspetto spirituale ma anche per tutti gli altri valori, morali, civili, in favore dei più poveri, dei meno fortunati. Insomma insieme ci siamo conosciuti tanto tempo fa, eravamo molto più giovani ma con tanto entusiasmo tanta volontà comunque di fare qualcosa di utile per la nostra collettività e credo che alcune volte ci siamo riusciti a pieno altre volte meno a pieno però abbiamo fatto tante cose belle insieme. Al termine della messa Don Loreto si è intrattenuto con le centinaia di persone presenti in un momento conviviale.